buongiorno buongiorno a tutti io sono shark bentornati su mad gaming oggi parliamo di Anthem perché ieri c'è stata una live come al solito live specific e bocconi della bioware che però finalmente ci hanno dato qualche dettaglio in più dall'alpha che vi ricordo io ho giocato e quindi ho notato qualche differenza con quello che io ho potuto provare la sfortuna è che non posso parlarvi dell'alpha e di conseguenza non vi posso dire che cosa ho provato e comunque come mi sono trovato né in realtà parlare dei dettagli perché sennò mi cancellano tutto come hanno detto loro ma comunque posso parlarvi dell'alpha e delle differenze in realtà delle differenze non ce ne sono perché noi nell'alpha avevamo tutto bloccato inventario equipaggiamenti vari ed eventuali era tutto bloccato quindi non potevamo realmente vedere che cosa avevamo in mano né poter cambiare avevamo perfino la terza abilità che si è vista nella live di ieri chiusa quindi non ce l'avevamo avevamo un'arma due abilità le granate e fine lì è stato un'alpha molto ovviamente è un'alpha molto molto ridotta in realtà è ridotta per quanto riguardava l'equipaggiamento e comunque il mondo del crafting tutto quello che riguarda le armature e i tech 3 dei freelancer ma per quanto invece ha riguardato l'esplorazione e le missioni era veramente veramente enorme quindi hanno voluto farci capire che antem è immenso durante l'alpha e in effetti lo è e ci hanno voluto tenere all'oscuro probabilmente per fare queste live successive dove ci introdurranno sicuramente sia il looting che il crafting che in questo caso l'equipaggiamento bene andiamo subito a vedere l'equipaggiamento che ci hanno mostrato e a tirare due conclusioni come si vede io ho fatto un po' di screenshot circa una decina di screenshot durante la live di ieri giusto per capire un attimo il contesto e che cosa hanno tirato fuori e le differenze anche che ci sono state con l'alpha ora tutte le armature quindi tutti i javelin hanno 5 componenti che si possono cambiare ogni componente crea un loadout diverso quindi l'esempio stupidissimo per quanto riguarda il ranger che io ho provato si possono cambiare per esempio gli equipaggiamenti delle varie granate con i componenti o meglio i support gear che può essere installata durante l'armatura che magari ti aumenta la distanza l'esplosione eccetera eccetera quindi ogni componente va a integrarsi con l'altro con alcune abilità con percentuali maggiori eccetera eccetera quindi questo già fa intuire quanto possa essere enorme la possibilità di loadout dei vari javelin è un'ottima impressione perché ovviamente basandosi comunque sui titoli precedenti come Destiny, The Division o Warframe diciamo che anche qui si vede molto di tutti e tre nell'alpha io ho notato tantissimo l'influsso che ha avuto Destiny su questo titolo perché diciamocelo Destiny è quello che ha avuto l'influenza maggiore per Anthem ma comunque io per esempio durante i combattimenti avendo più di mille ore in The Division mi sono rivisto quindi combattimenti a terra con l'arma in mano io mi sono rivisto in The Division utilizzando i ripari, spostandoci, schivando, lanciando le granate al momento giusto quindi sfruttando tutto quello che è l'ambiente che poi è la meccanica di The Division mentre per quanto riguarda invece la semplicità con cui io nell'alpha ho giocato quindi con granate, l'utilizzo delle abilità della final eccetera eccetera quello invece è proprio spudorato preso da The Division e qua in questa immagine si rivede questa cosa infatti se noi andiamo a vedere qui in alto questo numerino qua non è altro che il numero luce che si trova in Destiny quindi il nostro Gearscore che in realtà c'è anche in The Division lo troviamo qua ed è dato sia dal nostro livello sia dal livello delle armi le armi ci hanno mostrato svariati tipi di armi quindi sia le rare azzurre che le epiche viola che le masterwork che sono praticamente le leggendarie e ogni livello di armi aveva come si può vedere delle abilità intrinseche diverse e ovviamente più sono comuni meno abilità hanno quello che però non si è capito molto perché non ci hanno mostrato questo bellissimo tastino del crafting è come questi percentuali vadano ad integrarsi nel senso che qua sono allo 0% però a parer mio e anche secondo me ragionandoci un attimo è plausibile che tutti questi pezzi che noi andiamo a cambiare in questo caso sono l'Evia Salt quindi questa parte qua del colosso da cambiare potranno plausibilmente essere potenziati con il crafting quindi non solo la possibilità magari di craftarsi determinati pezzi di armatura o di armi ma anche proprio per migliorare le armi stesse questo a noi ovviamente è un mio pensiero non l'hanno fatto vedere probabilmente lo faranno vedere nei prossimi video del crafting e vedremo come sarà se avrò avuto ragione o meno qua si possono vedere invece le armi epiche per quanto riguarda ovviamente hanno un'abilità intrinseca in più si vedono bene i danni devo dire che i menu per quanto riguarda la forge e quindi quello che stiamo vedendo che noi nell'alpha avevamo chiuso è veramente fatto bene e molto semplice devo dire che è molto molto intuitiva come cosa perché se noi andiamo a vedere la forgia possiamo vedere tutti i componenti che noi possiamo cambiare del javelin stesso più le due armi che potremmo scegliere plausibilmente da un menu a parte che noi magari abbiamo droppato o craftato qua come possiamo vedere ci sono i componenti che vi avevo detto prima e i componenti stessi in realtà non sono delle armi ma sono degli aggiustamenti di ciò che noi andiamo a equipaggiare come gear quindi in questo caso l'all blast damage viene incrementato di una percentuale in base al danno il blast damage sarà dato da qualche tipo di arma come per esempio che ne so io il lanciafiamme e in questo caso questo pezzo di armatura andrà a sovrapporsi e a migliorare quello che noi abbiamo equipaggiato questa cosa ci dà una visione molto molto particolare di quello che noi avremo nel gioco arrivando da tanti mondi quindi da in questo caso da The Division da Warframe da Destiny da in realtà molte cose perfino Battlefield ho capito che la Bioware ha voluto introdurre una questione molto forte nel senso che sono riusciti ad andare ad ampliare tutto quello che i giochi precedenti avevano portato e questo fa sì che plausibilmente avremo ogni javelin di ogni persona giocante sarà diverso dall'altro perché si potranno avere realmente milioni di combinazioni anche soltanto pensare che noi possiamo cambiare quattro diversi per il momento quattro diversi slot sul braccio più i bombardier quindi più le armi più gli equipaggiamenti dei componenti più le granate più altre minchiate più c'è il tech tree del freelancer ognuno di noi potrà realmente avere qualsiasi tipo di javelin diverso dall'altro e la cosa bella è che non ci sarà plausibilmente un meta come c'è su Destiny come c'è su The Division come c'è su Warframe non c'è un meta perché non ci sarà qualcosa di più forte degli altri perché esse andranno tutti in combo quindi se io non ho quel determinato tipo di componente che mi aumenta il tipo di determinato danno della mia determinata arma è plausibile che non si arriverà ad avere un meta specifico come c'è magari in Destiny come c'è magari in The Division con determinate armi e determinati gear questo mi fa ben sperare sulla longevità del gioco perché ovviamente se io devo andare a recuperare tutti i masterwork del gioco e magari devo giocare in Master 3 quindi con gente che mi sciotta devo cercare le casse in giro devo fare esplorazione la longevità del gioco ne sente tantissimo vuol dire che io devo stare migliaia di ore sopra per avere un equipaggiamento che io ritengo degno ed è un'ottima cosa spero di essermi spiegato in tutto ecco i masterwork invece li hanno mostrati come potete vedere sono enormi hanno perfino un'abilità intrinseca quindi devo dire fatto bene ok complimenti complimenti per questa scelta quindi i masterwork sono veramente due livelli sopra perfino a gli epici quindi a questi cioè così consideriamo che l'epico ha l'abilità più due slot di ampliamento diciamo di percentuali mentre il masterwork ne ha quattro abilità intrinseca più quello che fa normalmente il pezzo del javeling vuol dire veramente avere un power up enorme in questo caso come possiamo vedere il massimo del gear raggiungibile è 433 plausibilmente sarà più alto o magari sarà alloccato come in destiny per poi con le dlc successive sbloccarlo e portarlo avanti ma questa è una cosa che si vedrà come si vede anche qua i componenti come vedete cambiano e ce ne sono di diverso tipo e di diversa natura quindi dal masterwork al common sicuramente li dropperemo e in realtà non ci hanno mostrato molto altro se non questo questa forgia quindi in realtà è quello che ci hanno fatto vedere che non porta tantissime novità però fa vedere realmente che la bioware ha lavorato in questa direzione che dire anche le 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 armi sono masterwork in questo caso come vedete se ne possono portare due dietro quindi abbiamo un marksman rifle e un assalt rifle quindi un colpo singolo e invece un un rpg devo dire che per il momento come lavoro in sé non è niente male come vi dicevo io ho giocato l'alpha non avevamo la doppia arma e non avevamo la terza abilità quindi sicuramente hanno introdotto qualcosa di nuovo non so se ci sarà una beta lo spero sinceramente che buttino fuori una beta così come hanno buttato fuori l'alpha prima della demo della demo se no comunque ci vediamo alla demo il 25 o per qualche altra live che plausibilmente faranno da qua alla demo che magari ci spiegheranno quello che rimane quindi gilde magari o i componenti per quanto riguarda il crafting o comunque anche tutto l'aspetto social del gioco che per il momento è stato un po' lasciato da parte con questo è tutto vi ringrazio di avermi seguito in realtà il canale era chiuso ma c'è stata questa live quindi l'ho riaperto al volo giusto per farvi questo video e portarvi subito le mie impressioni ci vediamo plausibilmente dopo Natale e beh buone feste a tutti